Bentornati amici telespettatori, siamo sempre in compagnia dell'osteopata, il dottor Vincenzo Lorusso. Bene, come le dicevo dottore, ora facciamo le domande che ci giungono da casa, nel senso che noi scriviamo qui sui social della sua presenza qui in trasmissione e giustamente i telespettatori sono curiosi e vogliono sapere. Nel senso che un telespettatore ci scrive, buongiorno dottore, ma c'è un'età per cominciare a fare delle sedute dall'osteopata oppure c'è un momento in cui la nostra vita diventa proprio necessario rivolgerci all'osteopata? Una bella domanda, in realtà non c'è una vera proprietà perché l'osteopatia è come medicina manuale naturale, non ha controindicazioni di età, nel senso che io tratto anche bambini appena nati, perché spesso ad esempio durante il parto c'è stata qualche trauma o il bambino è rimasto incanalato molto nel canale uterino, per cui la mamma aveva le contrazioni ma non si dilatava, quindi il bambino ha avuto comunque dei traumi ripetuti legati alla contrazione della muscolatura della mamma o comunque delle problematiche legate ad un parto un po' più difficile, possono creare delle piccole disfunzioni al bambino che poi può residuare delle piccole disfunzioni che se non corrette inizialmente possono manifestarsi come segni clinici più in là. Quindi io come tutti gli osteopati d'altronde trattano i bambini appena nati, i piccoli, gli adulti, gli sportivi, i non sportivi, fino agli anziani ovviamente la discriminante è il tipo di approccio e di tecnica utilizzato, ovviamente non si può utilizzare una tecnica estremamente cruenta col bambino e con l'anziano, mentre magari con lo sportivo la si può utilizzare, però ecco per rispondere alla tua domanda non c'è un limite di età assolutamente. Ma quindi anche le donne in stato interessante hanno bisogno dell'osteopat? Assolutamente, sì, anzi hanno soprattutto le donne in stato di gravidanza perché non possono, in stato di gravidanza è durante l'allattamento, di solito non possono assumere farmaci perché potrebbero creare dei danni al bambino, per cui sicuramente l'osteopat è uno degli specialisti più indicato per le mamme che possono trarre grandissimi benefici dall'osteopatia durante la gravidanza. Grazie, grazie per la risposta. Un altro telespettatore ci scrive, vorrei capire qual è la differenza tra le due figure mediche, il fisioterapista e l'osteopata. Ci sono differenze? Sì, ecco intanto la corrego nel senso che non sono due figure mediche, sono due figure sanitarie perché il fisioterapista è un professionista sanitario che consegue una laurea triennale in fisioterapia presso l'università. L'osteopata è un specialista che in possesso già di una prima laurea in ambito sanitario, quindi ad esempio un fisioterapista o un medico o un odontoiatra decide di intraprendere un percorso della durata di sei anni di solito in cui si specializza in osteopatia e consegue appunto il cosiddetto DO, che è il diploma in osteopatia, che è il titolo abilitante all'esercizio della professione di osteopata. Io ad esempio ho una prima laurea in fisioterapia e poi ho fatto sei anni in specializzazione per conseguire il DO e il diploma in osteopatia. Quindi sono due figure complementari, parallele ma differenti. Un telespettatore ci scrive, soffro di colite e stipsi e vorrei tentare di risolvere i miei disturbi. L'osteopatia vi può aiutare? Sì, di colite ne abbiamo parlato durante appunto la traduzione, un argomento che va alla grande come le dicevo, proprio perché sì, si può assolutamente dare un approccio. La cosa che io voglio sempre sottolineare è importante sempre accertarsi con il proprio medico curante o con lo specialista che non ci siano delle patologie conclamate che causino la stipsi o la colite. Quindi laddove lo specialista esclude qualsiasi tipo di complicanza che possa necessitare di un intervento chirurgico, di un approccio clinico importante, l'osteopatia diventa un grandissimo strumento per il miglioramento di queste problematiche. Mentre un altro telespettatore ci scrive che ha diversi problemi ai denti e vorrei capire se l'osteopata può aiutarmi. E in tal caso quante sedute deve effettuare dall'osteopata? Sì, assolutamente. Io collaboro con tantissimi dentisti perché la postura, la posturologia in generale, risente tantissimo della componente occlusale. Quindi i denti, gli occhi, così come anche l'appoggio plantare, sono delle componenti che vengono prese in considerazione in maniera esorbitante nell'approccio con il paziente. Quindi spesso problematiche occlusali, malocclusioni, anche un bruxismo notturno, o pazienti che hanno problemi o disordini temporomandibolari possono andare ad influenzare lo stato di benessere del paziente, andando a creare poi dei sintomi, come dicevamo prima, a distanza. Quindi assolutamente sì, l'osteopatia aiuta ed è di grande, è da un approccio molto, un aiuto molto importante nel trattamento dei disordini mandibolari o comunque occlusali. Sul numero di sedute onestamente non è, a me personalmente non piace parlare di sedute, perché ogni paziente è diverso, per cui non esiste uno standard. La prima cosa da fare è la valutazione, a seconda dell'entità del problema ci si farà una valutazione e poi si potrà decidere. Quindi anche per il bruxismo, che poi tra l'altro è il dirghignare i denti durante la notte. Sì, il dirghignare i denti, sicuramente anche qui bisogna... È dovuto a un'occlusione, a una mancanza... Sì, le origini del bruxismo in realtà sono molto complesse, non si riesce ancora a capire realmente da dove origini, per cui non è solamente un discorso muscolare, ma è anche un discorso tensivo, legato a stress e a tensione notturna. Quindi non si risolve completamente il bruxismo, ma la problematica legata all'ipertono dei muscoli masticatori, e dei muscoli che appunto vanno a dare la deduzione dei denti, viene molto ridotta e in approccio e in collaborazione con l'ortodonzista si ottengono dei grandissimi risultati. Un altro telespettatore ci scrive... Buongiorno dottore, da qualche tempo ho dolore alla parte superiore della spalla. Inizio ad avvertire fastidio subito dopo aver fatto attività sportiva. Può essere che si tratti di borsite? Come posso riconoscere i sintomi e le complicazioni? Ecco, queste sono le domande che i pazienti fanno per la maggior parte. Io evito sempre di rispondere, nel senso che fare una valutazione telefonica, a fare una televalutazione televisiva, è una cosa impossibile. La medicina necessita della clinica, della valutazione, anche se il sintomo spesso è identico in due pazienti, la problematica potrebbe essere completamente diversa. Quindi sicuramente il consiglio che io do è di approcciare un osteopata o comunque di approcciare il proprio medico curante, valutare se c'è la necessità di fare degli esami diagnostici per valutare la presenza, magari un'icografia della spalla o una radiografia della spalla, valutare questo. Laddove il medico curante non ravvisi la necessità di questa valutazione, indagine diagnostica di primo livello, può consultare tranquillamente un osteopata e dopo una valutazione qualsiasi mio collega potrà esprimersi su una valutazione, insomma, ma così è abbastanza difficile. Un altro telespettatore ci chiede, può derivare da mandibola e fegato la brachialgia di origine foraminale? È un po' confusa questa domanda. Ecco, sicuramente delle brachialgie, quindi delle brachialgie si definisce algie del braccio fondamentalmente, è una definizione abbastanza grande. Quindi una brachialgia può avere varie origini, può avere un'origine legata ad una problematica radicolare per una compressione di alcuni nervi a livello del plesso brachiale o può avere anche una origine viscerale, come dicevo prima. Io ho fatto l'esempio del colon, ma possiamo fare l'esempio del fegato, dello stomaco. Effettivamente anche una problematica epatica, un fegato molto ingrossato, può andare a creare una problematica con sintomatologia avvertita a livello del braccio. Potrebbe essere una sintomatologia interessante, però sempre lì, va valutato il paziente e va capito. Perfetto, un altro ci scrive, mi è stato ordinato dal medico curante una terapia con prulia. Ho fatto la puntura e il giorno successivo ho avuto la febbre molto alta. Prendo del nimesulide per contrastare la febbre, ma finito l'effetto la febbre riprende. È normale quello che mi sta succedendo? La terapia farmacologica è di competenza del medico, quindi questa domanda va fatta al medico. L'osteopatà è uno specialista che non utilizza la farmacologia. Quindi diciamo che è una cura senza effetti collaterali, in poche parole. Sì, fondamentalmente gli effetti collaterali dell'osteopatia sono davvero pochi. Ed è questa, a mio avviso, la grandezza, perché rientra nelle medicine naturali. e come le medicine naturali hanno poche contraddicazioni e sono applicabili a una vastissima scala di persone. Quindi diciamo che questa filosofia, affiancata a un corretto modo di vivere, può essere molto molto importante e quindi ci può accompagnare appunto nella prevenzione addirittura di molte patologie. Assolutamente sì, la prevenzione assolutamente, ma anche la cura. Bene dottore, il tempo a nostra disposizione è terminato. Diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove patologie, e trovare nuove soluzioni ai casi clinici che i nostri telespettatori molte volte hanno. Ringraziamo il dottor Vincenzo Lorusso per averci dato queste risposte, per averci tenuto compagnia, per averci anche fatto capire questa nuova filosofia di vita all'osteopatia. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.